E allora amici di Calciopazzo, mancano una decina di minuti alla fine di Lecce-Venessia, risultato di 2 a 2, il Lecce sta facendo in questi ultimi minuti, diciamo in questa seconda parte, del secondo tempo, tutto quello che non ha fatto oggettivamente durante la gara, nel senso il Lecce ha condotto la partita per carità, però non con quell'intensità con cui siamo abituati. E siccome nel calcio moderno purtroppo la sola tecnica non basta, io continuo a ritenere, come dicevo nel video precedente, continuo a ritenere, attenzione qui adesso c'è il Venezia che sta entrando in area con Forte, poi parleremo di lui, insomma, il grande Francesco Forte, E così come la sola tecnica non basta, ma serve anche l'aggressività, la concentrazione, il pressing per giocare nel calcio attuale, tutto questo secondo me un po' è venuto meno oggi rispetto alle precedenti esibizioni. E' pur vero che il Venezia si è difeso bene e soprattutto nelle ripartenze ha fatto male, perché poi in realtà si è fatto soltanto quello, 3-4 ripartenze, in due di quelle è stata micidiale, perché comunque Di Mariano che va sul fondo e mette un cioccolatino per Francesco Forte, che magna in testa proprio a Zuta, mi sembra, si è sentita oggi assolutamente l'assenza di Calderoni, Zuta, non dico impresentabili, però insomma ecco, secondo me la panchina è il posto più idoneo per lui, e quindi l'assenza importante è quella di... Oggi mi è prudendo il naso, lo debito fare, è così, è assenza chiaramente importante, e quindi dicevo, Francesco Forte ha magnato un cielo, mi sembra a lui e a me Cariello, e ci ha provato Gabriel a ribattere, ma nulla da fare. Pochi minuti c'è stato il vantaggio, chiaramente ho dimenticato, scusate, il vantaggio di Mancoso, una bellissima azione di coda, che si libera da una marcatura e poi serve sulla corsa Mancoso, quindi assist di coda, una grandissima stagione da parte sua, 8 gol, ha disegnato anche oggi, e una fracca di assist, me pare, comunque grandissima prestazione, e per Mancoso che arriva in corsa e di prima intenzione sul primo palo batte Lezzerini. Poi ripeto il paligio di Forte, e poi dopo pochi minuti, è stato praticamente quasi un 1-2 se non ricordo male, sempre Francesco Forte sul cross di Mazzocchi, se non sbaglio, un cross molto teso, e lui in una mezza... non si è capito manco che voleva fare, una cosa tipo banzai, capito? È intervenuto, ha anticipato, non ricordo chi, e la palla ha preso un giro strano e è finita sotto al set. Da lì in poi chiaramente Lecce è un po' accusato dei nervosismi e quant'altro, nella ripresa qualche altra buona ripartenza, Francesco Forte dimostra, secondo me, di essere, parte, beh, dimostra di essere, insomma, c'è stanno i numeri che dicono che è l'attaccante più prolifico dell'anno solare, perché è una marea di gol con la Juve Stabia, poi fatti in tutti i modi, perché sinistro, chiaramente il suo piede, detesta, ma gol anche spettacolari, come come di oggi, perché comunque oggi il secondo gol, l'abbiamo sentito anche nell'intervista, e io ne sono certo, che comunque lo conosco, ci parlo spesso su Instagram, e lo voleva fare, lo voleva fare, non è che l'ha presa male o se è sbagliato. Tra l'altro io, che ho molti amici giù a Lecce, avevo consigliato quest'estate caldamente, Francesco Forte che era retrocesso con la Juve Stabia e sapevo che non sarebbe sceso nella serie inferiore, ma chiaramente, ma questo è un giocatore che mi evita la serie A, ragazzi, se vi potete scendere in serie C, secondo me gli era stretta, anche molto stretta la serie B, perché comunque magari in una squadra D, o metà classifica, o io sinceramente l'avrei voluta da Roma, perché per carità adesso Borca Maiorato sta segnando, gli vogliamo bene tutti, ma secondo me Francesco Forte è superiore a Borca Maiorato, questo è un mio pensiero, poi chiaramente io, lo sapete, ci capisco la mazza, per cui posso dire qualsiasi cosa. E adesso, chiaramente, sono gli ultimi minuti, il Lecce sta provando chiaramente a fare il colpo grosso, perché? Perché poi è entrato Filippo Falco, e che io non capisco sinceramente come possa un giocatore della classe cristallina, come Filippo Falco, come possa sta in panchina. Però, c'è pure da dire che chiaramente chi gioca se lo merita, perché comunque Anderson è bravo, Seppischi è bravo, insomma. Però ecco, poi in panchina c'è anche Pettinari, Pettinari è uno che ti fa una fracca di goda, anche lui. Chiaramente è la qualità della rosa che dicevo la scorsa settimana, quindi c'è posta che magari nel secondo tempo tu metti dentro Filippo Falco e spacchi in due la partita. E così è successo, perché sta facendo il bello e il cattivo tempo da quando è entrato, ha fatto uno slalom alla Maratona, tra l'altro, ecco, Mancino, Bari Centro Basso, numero 10, quindi, insomma, poi chiaramente ci stanno 18 categorie di differenza, però, insomma, ecco, possiamo dire il Pibbe de Lecce, ecco, sicuramente quello che possiamo dire. Ha fatto un assist per coda che ha tirato praticamente un rigore in movimento e due a due. Due a due alla fine meritato, perché comunque stavamo, intanto mi arriva un messaggio proprio da mio amico Giudi Lecce, stiamo guardando la partita insieme e ce la commentiamo alle varie situazioni, e quindi, nonostante, ripeto, non abbia fatto una partita, l'avversario comunque è un avversario de livello, perché comunque quest'anno il Venezia ha delle velleità in più rispetto agli anni scorsi, perché comunque è una squadra costruita con razziocinio, ben allenata, ha degli elementi validi, forte, a ramo, lo stesso Fiordilino, insomma, Tugurdo, ha dei giocatori, insomma, di livello, e per cui potrebbe anche aspirare a un discorso dei playoff, a mio avviso. Staremo a vedere. Intanto, mettiamo un attimo un pausa, manca ancora qualche minuto, siamo al novantesimo adesso.